Romagna mia, Romagna è il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alta solare. Romagna, Romagna mia, lontana te non sei costa. A Savignano su Rubicone, nel cuore della Romagna, quindi siete in collegamento grazie anche alle emittenti che fanno parte del circuito 100 TV. Per sapere qual è l'emittente della vostra zona basta andare sui nostri social, sul nostro sito ufficiale casadessonora.it e trovate l'elenco con tutte le emittenti che fanno parte della nostra famiglia. Un gioco di parole, mi sono un po' imbrogliata ma lo sapete, l'emozione del stare insieme a voi fa questi scherzetti. E allora volevo ricordarvi che se invece avete dei dubbi o semplicemente un saluto da fare potete chiamarci allo 0541945259. Grazie anche a tutti gli amici che insomma aumentano con un semplice like, si iscrivono ai nostri gruppi, ai nostri sociali. Io veramente vi ringrazio di cuore a nome di tutta la mia famiglia e andiamo a vedere chi c'è protagonista in questa prima parte della nostra giornata. Parte lei, Betty con Festa in Paradiso e allora andiamo con le note allegre. veramente sono certa che vi regaleranno delle emozioni e poi andiamo con verso casa mia, Baiardi e Macarena. Eccoci qua, io vi ho presentato la prima parte ma vi aspetto ovviamente ci ricollegheremo più tardi per concludere questa giornata insieme. E' grande festa, in cielo festa tra i santi, si balla liscio tra suoni e canti, all'angolo della sola tia Romagna. E' sempre festa, è una cuccagna, il gallo canta e pigola la guagna. Rispunta il sole, caudo che ti abbaglia, c'è odore nell'aria di piada e tebbiano. Arriva qualcuno che viene da lontano, plana una stella e scende il passeggero, suonando il violino sembra un messacero. Sorride quel maestro, sorride più che mai, San Pietro gli chiede, ma chi sei? Sono il romagnolo secondo Casadei, avanzatore della buona gente. Porto l'allegria della mia Romagna, anche coi pensieri è sorridente. La musica è l'amante che vive dentro me, fai un bel sorriso, è festa in paradiso. Tace poi l'orchestra, ascolta quel violino, è un canto che accarezza il viso di un bambino. E gli angeli curiosi affrotta e scendono in giù, e applaudono contenti, applaudono di più. La gente balla e brinda, insieme fa un bel coro, incoronando l'estera il maestro con l'alloro. E dalla folla spunta il grande Paganini, ti dice forte, bravo, ma chi sei? Sono il romagnolo secondo Casadei, non lascio il fredello, buona gente. Porto l'allegria della mia Romagna, anche coi pensieri è sorridente. La musica è l'amante che vive dentro me, fai un bel sorriso, è festa in paradiso. Le edizioni musicali Casadei Sonora di Savignano sullo Rubicone aprono le proprie porte a singoli, gruppi e scolaresche per raccontare il mondo di secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue mille composizioni. Ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto, che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di 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 unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica, viva e brillante di unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica, viva e brillante di unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di unica, viva e brillante di unica. Big Day Liscio, da Cervia, questa cittadina che si affaccia sulla nostra costa romagnola, fantastica, poi anche ricca di storie, di arte, di cultura. Bildina è proprio da visitare, ve la consiglio. Andiamo con Non c'è pace fra gli olivi. Un altro pezzo sempre firmato Casadei. Io vi lascio su queste frequenze e vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Un bacio, come sempre, vi aspetto domani. Ciao! Un bacio, come sempre. Un bacio, come sempre. Un bacio, come sempre. Il sac di Fiorenzo Tassinari non c'è pace. Regno di me. Un bacio, come sempre. 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 Un bacio. Un bacio, come sempre. Un bacio, come sempre. Un bacio, come sempre.